La cosa che mi ha divertito molto, ci ha divertito molto, è il fatto di vedere Pasquale suonare senza spartito ma guardando il video. Il video perché ha delle stimolazioni che in realtà voi dovrete concentrarvi durante le immagini su quello che verrà proiettato, perché stimolerà a livello visivo l'ascolto e a livello olfattivo ci sarà una curiosità che avrà delle incalzate che in qualche maniera dovranno ricordare la costruzione del piatto per arrivare al senso armonico finale che diventerà composizione olfattiva, immagine del piatto e composizione musicale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.